Con sei anteprime internazionali, grandi ospiti e masterclass per gli studenti, torna dal 26 al 30 settembre Terra di Siena International Film Festival, la Kermest cinematografica che sarà ospitata al cinema Alessandro VII nel centro storico di Siena. Il festival giunta alla 27esima edizione è stato presentato questa mattina a Firenze nella sede della regione toscana. Terra di Siena rappresenta una realtà che offre alla Toscana l'opportunità alla 27esima edizione di un festival cinematografico di livello internazionale che risveglia a Siena un interesse verso il cinema che si accompagna all'impegno che la Toscana sta mettendo per la produzione del cinema. Ricordo il bando per 4 milioni di euro che stiamo preparando per le produzioni cinematografiche che abbiano sede in Toscana. Ricordo l'adesione e l'appoggio che la regione offre ai festival che si svolgono nelle varie città della Toscana. Molto atteso e direttamente dalla mostra del cinema di Venezia arriva a Terra di Siena International Film Festival il film Nina dei Lupi di Antonio Pisu con Sergio Rubini, mentre tra le star internazionali attese ci sarà anche l'attore statunitense Randall Paul. Tema centrale di questa edizione sarà la sostenibilità. Sarà una vera maratona perché si incomincia domani 26 settembre e fino al 30 settembre inizieranno le proiezioni fin dalla mattina alle 8 e mezzo per poter permettere appunto alle scuole di vedere film che sono stati selezionati, quelli più adatti ovviamente per le scuole. Ci sono poi altri film di genere, diciamo, che sono anteprime internazionali, thriller psicologici, commedie come quella di Federico Moccia che portano anteprime a Siena, mamma cui comando io, che è una commedia molto garbata che viene vista sulla famiglia, vista però dalla parte dei bambini. Il festival si chiuderà il 30 settembre con una serata di gala e la premiazione al Teatro dei Rozi di Siena. Ci sarà anche una sorta di spettacolo all'interno di questa serata di premiazione proprio per interrompere il rituale continuo e a volte anche noioso delle premiazioni. E quindi abbiamo pensato a un artista che è Alice Valentini, che sarà protagonista con un paio di brani o tre ora, dipende dai tempi che avremo, Alice Valentini con il suo corpo di ballo che eseguirà dei brani tratti dalle colonne sonore dei film celebri.